La stagione del Matese finisce con la salvezza nella penultima giornata di campionato contro il Fiuggi, come vedete dalle immagini a fine gara. La squadra era ormai sotto la doccia, confidando nell'ultima giornata, ma il pareggio del Vasto Girardi all'ultimo minuto fa esplodere il Ferrante. Il Matese è automaticamente salvo. La festa comincia in campo e fuori, fra tifosi, giocatori, allenatori e dirigenti. Noi abbiamo sentito solo parte dei protagonisti per sapere come hanno vissuto la sofferta salvezza e quale sarà il loro futuro, cominciando dal bomber Daniele Napoletano. Ok, Daniele Napoletano, gli chiediamo soltanto l'anno prossimo, che sarà? L'anno prossimo vedremo. A me sicuro farà piacere giocare a casa, perché essendo di qua non c'è stimolo migliore. Però ci dobbiamo ancora finire e terminare questo campionato e poi vedremo. I tuoi primi gol in Serie D comunque li hai fatti a casa tua, no? Sì, sì. Qua ho fatto il mio primo gol in Serie D. Comunque, come dicevo prima, a me non c'è stimolo migliore di giocare a casa. Poi abbiamo sentito, mister Urbano, il pilastro dal quale la nuova società dovrà ripartire se vorrà avere davvero obiettivi ambiziosi. Mister Corrado Urbano, due anni splendidi qui a Pietimunde, il terzo anno? Eh, il terzo anno vedremo, insomma. Bisogna ancora finire questo qua, cercare di finirlo nel miglior modo possibile. Fino ad oggi credo che abbiamo fatto, insieme alla società, insieme al gruppo squadra, a tutti i tifosi, abbiamo fatto un ottimo lavoro, due ottimi campionati. Ecco, se lei dovesse scegliere fra il campionato scorso e quello di quest'anno? Ma sicuramente quello dello scorso anno, nella parte del girone di ritorno, è stata una cavalcata trionfale perché abbiamo fatto veramente tantissimi risultati e abbiamo ribaltato una posizione di classifica. Quello di quest'anno è stato, diciamo, un po' più travagliato nel senso che anche un po' più difficile perché c'è stato un grande equilibrio, un grande equilibrio dove tante squadre erano ben attrezzate. Ci stava di poter perdere con tutti ma noi potevamo anche andarla a vincere fuori casa con tutti e così è stato. I risultati delle ultime dieci partite hanno dimostrato che c'era un grosso equilibrio. Ecco, i risultati, non sono stati strani questi ultimi risultati? Ma sì, qualcosa ci può essere stato sicuramente. Qualche squadra, parliamoci chiaramente, la Reganatese ha messo un po' di abbassato un po' la tensione che è fisiologico però purtroppo qualche squadra come noi, diciamo, come altre squadre che lottavano, hanno lottato fino alla fine per cercare di uscire dai play-out, questa cosa può aver dato fastidio. Però è anche fisiologico, mi voglio mettere anche nei panni della Reganatese, anche se devo dire altre società tipo il Cerignola, tipo San Giuliano, in altri gironi hanno onorato, non hanno mollato nulla, però questo dipende sempre dalle persone e da quelle che uno vuole fare nella vita. Allora, Capitano Albanese, l'anno prossimo farei soffrire ancora i tifosi del Matese prima di dare il tuo beneplacito. Adesso ci godiamo questa salvezza, questo momento, manca ancora una partita e sicuramente vogliamo chiuderla nel miglior modo possibile questa stagione. Poi per quanto riguarda l'anno prossimo, quando sarà il tempo, diciamo, quando sarà il momento parleremo con la società e vedremo. Allora, Fabian, la notizia della salvezza sotto la doccia, che impressione ti ha fatto? Guarda, in realtà stavamo tutti seduti aspettando i risultati senza fare la doccia, perché eravamo un po' amareggiati, che un'altra volta abbiamo fatto il risultato e in altri campi non arrivava la notizia bella per noi. Quindi appena abbiamo saputo del gol del Vasto Girardi, abbiamo iniziato a festeggiare, anzi le faccio un ringraziamento a Vasto Girardi, che ha dimostrato essere una squadra che lotta fino alla fine senza regalare nulla. Quindi è stata una meritata salvezza che in un altro campionato già eravamo salvi da 5-6 giornate. Che campionato è stato per te? Per me è un altro campionato ottimo, quest'anno grazie a Dio ho fatto 16 gol, un'altra volta più. Solo parole e ringraziamento per il mister che mi fa fare sempre il meglio di me, anche il presidente Rega che mi ha voluto un'altra volta qua, i miei compagni che senza di loro sarebbe impossibile e i tifosi che quest'anno, soprattutto quest'anno, ci hanno supportato tantissimo. Dallo Stadio Ferrande è tutto, Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.